Dopo cinque mesi di navigazione questa è l'immondizia che ho prodotto a bordo di Oportus. Tutto è stato recuperato all'interno di questi sacchi che adesso andremo a smaltire negli appositi bidoni. Ho portato tutto con me, le uniche cose che finivano in mare era qualche piccolo residuo organico, qualche residuo di cibo, pochissima cosa, alimenti per la paura marittima. E' stato un viaggio a parto aero limitato il più possibile a livello polone. Grazie.